Allora io ho ascoltato le domande che le hanno posto i miei colleghi con attenzione e con altrettanto attenzione ho notato che lei però nelle sue risposte utilizza la sua esperienza da politico di vecchia data per girare attorno ed uscire con il politically correct e lo fa bene devo dire. Io volevo chiederle quindi in modo diretto se riguardo il regolamento di Dublino ritiene che la distribuzione dei richiedenti asilo e degli immigrati in generale vada fatta utilizzando un metodo comunitario e di equa distribuzione tra stati e si impegnerà in tal senso. Poi volevo farle una domanda più personale oppure una curiosità ecco gira su internet una foto che la ritrai con un mitra vicino al confine con la Turchia vicino al famoso filo spinato di cui parlavano gli altri ecco io vorrei sapere se è vera perché qualora fosse vera secondo me sarebbe una cosa molto grave come mettere una volpe a guardare un po' di un pollaio e mi stupirei se i colleghi avvallassero. Proda Polan? Sì vicino a loro io ho preso in mano quest'arma però non vorrei passare per un guerrafondaio. Tra l'altro sappiamo che la cosa peggiore si avrebbe avere in mano un'arma e non saperla usare. Quella era una fotografia umoristica presentata da un periodico ma io non avrei mai fatto una manifestazione del genere vicino ai confini della Turchia. Io tra l'altro sono stato uno dei fautori del ravvicinamento con la Turchia già come sindaco di Atene. Ho aperto le porte alle relazioni tra i due popoli e ecco perché ho parlato di cities diplomacy perché credo nella cooperazione tra i popoli e come dice Kofi Annan bisogna costruire la pace dal basso. Quindi per carità lontano da me simili intenzioni. Del resto guardi se lei verrà nel mio ufficio vedrà che io sono protagonista di tante caricature. Anzi le dico di più. Più mi caricaturizzano e più io mi ostinerò a fare politica. Comunque passando al merito ogni paese ha le sue esigenze. Ogni paese dovrà stabilire di quante persone ha bisogno e di che cosa. Taxisti, pettinatrici, tassiste. Però la politica dell'immigrazione dal momento in cui sarà legale stabila la ripartizione. Quindi non c'è una proporzione a prescindere. Dipende dalle esigenze. Dipende dalle esigenze. Dipende dalle esigenze. newe